Oggi conosciamo un giovane promettente, proveniente delle giovani di Modena, ci racconti un po' Dove giocala? In che serie? All'anno prossimo faremo la serie B, la Junior League Under 20 e faremo delle giovani di Modena, siamo tutti dai 2000-2001 Ci sia il suo contatto Instagram per le fan? Per le fan io su Instagram mi chiamo Misos, con 6 O Il mio nome è Matteo Misendi Grandi Il mio nome è Matteo Misendi Il mio nome è Matteo Misendi Il mio nome è Matteo Misendi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti